Noi a Buseto abbiamo circa 900 extracomunitari e poi molti altri extracomunitari con cittadinanza italiana e siamo oltre il migliaio. Queste persone sono perfettamente integrate, vanno d'accordissimo con le strutture, con le scuole, con l'OSL, con i presidi medici e non possiamo lamentarci. Anzi, non abbiamo invece e siamo uno dei comuni, uno dei rari comuni che non hanno ancora extracomunitari per richiesta di asilo, profughi eccetera. Siamo comunque disposti a lottare perché non vogliamo pagare, lo ripeto, gli errori di Francia, di Inghilterra, degli Stati Uniti che ammazzando Gheddafi, ammazzando Saddam Hussein hanno riempito l'Europa di tutti questi signori qua che sono un danno all'economia italiana, un danno all'ordine pubblico, un danno alla sanità. Queste sono le cose alle quali noi ci opponiamo.